Un saluto a tutti voi, amici che siete in collegamento attraverso i vari social network, un saluto a tutti gli amici dell'Azione Cattolica e a tutti quanti con l'augurio di una buona estate, di una estate bella, ricca, ricca di relazioni fondamentali, di relazioni vere, di relazioni significative. Sono contento dell'uso di questi strumenti di comunicazione che ci aiutano a rafforzare quel rapporto che anima la vita della nostra associazione con i legami di vita buona che sono alla base dell'Azione Cattolica. Noi sappiamo che questi legami sono ben più ampi e significativi di quello che è lo spazio della rete, però sappiamo anche che attraverso la rete possano crescere, rafforzarsi, ulteriormente intensificarsi. Allora una buona estate è tempo di Dio ed è tempo degli altri l'estate, è tempo di Vangelo ed è tempo di amici.